Ciao a tutti! Il primo rossetto che vi mostro, che è anche il primo rossetto di MAC che io ho comprato è stata una decisione particolare, insomma, la decisione del rossetto che per primo è entrato nel mio cuore, nella mia collezione, si chiama Kinda Sexy, ed è questo qua. Allora, è un nude rosato, quasi tendente al corallo, io me li provo così almeno mi ricordo bene come potervelo descrivere. Ah, innanzitutto questo è del finish matte, quindi sulle labbra non è troppo idratante, non ha nessun riflesso, come potete vedere questo è il mio swatch sulla mano. ed è un colore pieno, alla prima passata. Devo dire che questo matte del Kinda Sexy non è così secco sulle labbra come altri matte che ho, anche di altre tipologie di rossetti. È un bellissimo colore, va abbinato comunque bene con un trucco occhi, perché sennò tende magari a spegnere il volto. Molto bello. Ok. Volevo leggervi la descrizione che MAC sul suo sito maccosmetics.it dà del rossetto. Lo descrive come un rosa neutro perlato. Del perlato non sono molto d'accordo, perché non so dove veda le perlescenze, ma vabbè. Rosa neutro, sì, sono d'accordo con la sua descrizione. Mi sono segnata le descrizioni del sito, perché a descrivere i colori faccio abbastanza schifo, quindi lasciamo perdere. Ed ecco l'effetto finale, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo Too Fast. A presto! A presto!